Un buon caffè caldo si beve tutto l'anno, anche d'estate. Ci sono però delle varianti estive molto gustose e forse poco conosciute. Il caffè shakerato, ovvero un espresso agitato con ghiaccio molto spumoso. Il caffè freddo, generalmente caffè della moca zuccherato e raffreddato. Il caffè leccese, una base di sciroppo di latte di mandorla, un espresso e il ghiaccio. Il caffè salentino o caffè con ghiaccio, un espresso con cubetti di ghiaccio.